Vittoria fondamentale del Genoa che batte il Cosenza al Gigi Marulla, 1-2 il risultato ben ritrovati dal Doge, grandi ragazzi che hanno saputo tenere il risultato nonostante l'inferiorità numerica che c'è stata più o meno dal primo minuto visto che l'arbitro è stato abbastanza indecente, complimenti ai tanti genoani giunti in Calabria, complimenti anche ai nostri fratelli Cosentini per la bella accoglienza, sperando che i calabresi riescano a ottenere la salvezza anche di più. Sono contento di questa vittoria, bene anche in Coppa Italia, bisognerebbe finalizzare di più, però per il resto abbastanza good. Ragazzi, a Terni è difficile perché troviamo una bella squadra come la Ternana.